30 anni di Associnema Agropoli. Il 16 gennaio 2020 alle ore 18 presso il Cineteatro Edoardo De Filippo, la festa di una delle associazioni più longeve di Agropoli. Durante la serata sarà proiettato l'ultimo cortometraggio del regista Domenico Avenia. 30 anni di Associnema Agropoli. Giovedì 16 gennaio 2020 ore 18 Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli. Ingresso gratuito.